Linea Azzurra presenta un meraviglioso inverno in pellice, come questo bellissimo cappotto in visione Deliver a colore naturale e 5 metri di ruota. Oppure una splendida volpe argentana dal colore naturale con pelli di prima scelta. Ma c'è chi preferisce un montone di un modello esclusivo con interno di volpe nera e cappuccia. Questo montone nero è più classico, con un ampio collo e polsi di visone. Immaginatevi in un cappotto di visone come questo, dal colore naturale e con particolari disegni geometrici. O con un cappotto di african grigio, con colore naturale. Linea Azzurra, meraviglioso inverno.